Marina di Uomini e Donne, chi è, di dov'è, lavoro, foto, Instagram, Claudio. Tutto pronto per una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show più amato di sempre. Anche quest'oggi. A partire dalle 14, 45 su Canale 5, Maria De Filippi è pronta a regalare emozioni ai propri telespettatori e di colpi di studio in scena non mancheranno. In particolare. Oggi al centro dello studio c'è Claudio, per lui sono scese ben quattro signore. Con chi deciderà di approfondire la conoscenza all'uomo? Marina è una signora gentile e pacata e sembra avere tutta l'aria di conoscere seriamente Claudio. Come andrà tra di loro? Intanto, i commenti di Tina in studio non si fanno attendere. Grazie. 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 Grazie.